Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, il film uscito in questi giorni su Netflix. E sì, oggi non parleremo del consueto fumetto settimanale delle Tartarughe Ninja dell'IDW, ma voglio parlare con voi appunto di questo film che è andato a concludere la serie televisiva partita nel 2018. Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Film in uscita e nella rubrica Tartarughe Ninja. Oggi appunto parliamo di questo film che era molto atteso dai fan di questa serie in particolare, la serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles del 2018, serie che però non era assolutamente apprezzata magari dai fan delle altre serie TV, in particolar modo quelli della serie TV del 2012, che è stata, non dico interrotta, però è stata conclusa, ma poteva andare avanti benissimo, dato che aveva un grande successo, io sono tra questi fan, o i fan invece che per nostalgia parlano per partito preso ricordando una fantastica serie del 1987, che invece fantastica non è, ma semplicemente è impressa nei loro cuori, nei loro ricordi. Proprio per questo motivo Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles non ha avuto successo e ha avuto solo due stagioni. Questo perché ha stravolto totalmente i personaggi principali. Su tutti c'era Raffaello, che era il capo, diciamo, delle Tartarughe Ninja, era il leader, non era Leonardo. Michelangelo e Donatello grossomodo hanno mantenuto i loro ruoli, mentre Leonardo era questa versione un po' smargiassa, un mix tra Raffaello e Michelangelo come simpatia e impulsività. Raffaello non aveva i suoi storici sai, aveva delle tonfa, abbiamo già visto comunque in altre incarnazioni passate le Tartarughe Ninja usare altre armi diverse dalle proprie. Michelangelo, per esempio, già in passato, già nella serie TV, utilizzava un rampino al posto dei Nunciaco e nella serie del 97 era lui ad usare le tonfa al posto dei Nunciaco. Quindi, da quel punto di vista, nessun problema. Era un po' invece strano vedere anche le proporzioni delle Tartarughe Ninja, perché ogni Tartaruga, e questa è anche un'idea abbastanza originale, se non fosse che svia un po' dal fatto che le Tartarughe Ninja dovrebbero essere, comunque fratelli dovrebbero essere tutte uguali e diversificate solo dal carattere, in questa versione ogni Tartaruga Ninja era una Tartaruga diversa. Raffaello era una Tartaruga alligatore, una Snapping Turtle, che in realtà noi fan della Vecchia Guardia già conosciamo la Snapping Turtle per essere la mutazione di Tocca o, in alcuni contesti, anche la mutazione di Slash. Quindi vedere anche Raffaello, che è una Snapping Turtle, fa un po' strano. Inoltre, e questa cosa l'ho scoperta guardando il film, le loro armi erano mistiche, quindi la spada di Leonardo apre dei portali, il bastone di Donatello è una sorta di anello di lanterna verde che crea cose dal nulla. Michelangelo ha dei nunciacomistici che poi nella scena iniziale del film ricordano anche un pochino alcune mosse del Dottor Strange e Raffaello invece con i suoi sai, perché nel film invece ha i sai, quindi se siete fan di questa serie scrivetemi perché nel film ha i sai e nella serie tv invece ha le tonfa. Raffaello invece riesce, diciamo, a creare una proiezione di se stesso ingigantita, un po' come ci hanno mostrato nell'ultima puntata di Miss Marvel. Ma questa era solo la premessa iniziale della serie tv per chi non l'avesse vista. Parliamo del film vero e proprio. Il film, ciò nonostante, è fruibile da tutti i fan. Io non ho mai visto la serie e mi sono goduto il film e devo dire che è un film davvero apprezzabile, nonostante è chiaro che parte da un concetto diverso di Tartaruga Ninja, che io ho sempre voluto definire Tartaruga Ninja Go come Teen Titan Go è assolutamente diverso da Teen Titan. Ecco, se ci fosse a noi fan, ci fosse entrato in testa questo concetto, forse avremmo apprezzato meglio questa versione delle Tartaruga Ninja che comunque non è scritta per noi, ma è scritta per i ragazzini di oggi. Il film ovviamente è una chiusura di questa serie che appunto ha avuto scarso successo ed è rimasta incompiuta. Questo film vuole sancire appunto la chiusura dell'arco narrativo di queste Tartarughe. E nel dare una chiusura a queste Tartarughe cerca un pochino di aggiustare il tiro portandole un po' sull'incarnazione più classica che tutti conoscono. Questo anche proprio per fare in modo che questo film sia fruibile da tutti e che, diciamo, metta una pezza alla miriade di fan scocciati perché queste Tartarughe Ninja erano diverse, tra cui io. Come hanno fatto a portare le Tartarughe Ninja di questa versione a una versione un po' più classica? semplicemente dando un percorso di crescita a Leonardo che è finalmente protagonista di una pellicola rispetto alle altre dove era protagonista magari Raffaello, Donatello, Michelangelo, ma Leonardo era sempre un po' di contorno. Qua finalmente Leonardo è protagonista e ha una sorta di crescita dell'eroe e diventa in un certo senso il leader, anche se non ufficiale, del gruppo proprio perché Raffaello viene rapito. Onestamente io avrei preferito vedere uno scambio di ruoli, sì, delle Tartarughe Ninja, quindi Raffaello il capo e Leonardo l'impulsivo, ma non volevo vedere un cambio di caratteristiche. Invece vediamo proprio Raffaello che ha il carattere ponderato e preoccupato che ha Leonardo, quindi è proprio come se avessero scambiato totalmente le due personalità delle Tartarughe Ninja. Quindi io mi chiedo a che pro cambiare totalmente le personalità? Un conto è cambiare il ruolo all'interno delle Tartarughe Ninja, all'interno del gruppo, per vedere come una determinata personalità si comporta con quella carica, ma in questo modo semplicemente sono due personaggi snaturati che non aveva senso vedere in questo ruolo. Se avessero avuto le bandane switchate, scambiate, non sarebbe cambiato nulla. Ciononostante in questo film appunto Leonardo è costretto a diventare il leader del gruppo a causa del rapimento di Raffaello, che tra l'altro è dato dal sacrificio di Raffaello per salvare la squadra. Un po' in antitesi al fatto che Raffaello in altre incarnazioni era stato rapito, comunque era stato separato dal gruppo proprio per la sua impulsività. Quindi mi è piaciuta anche un po' la citazione al fatto che Raffaello è out per una buona parte del film, proprio per questa cosa, per far crescere il resto della squadra e per citare un po' il Raffaello solitario, anche se in questo caso è fuori dallo schermo per tutt'altro motivo. Sempre per andare incontro alla incarnazione più classica delle Tartarughe Ninja, le armi mistiche perdono i poteri e quindi vediamo le Tartarughe Ninja disperate perché non sanno come affrontare il nemico senza tutto questo potere. Onestamente, se il film avesse avuto più tempo, ovviamente un'ora e venti non possono spiegare tutto e si sono concentrati sulla storia di Leonardo, ma se fosse stato più lungo mi sarebbe anche piaciuto vedere come queste Tartarughe Ninja imparano a utilizzare delle armi normalissime senza poteri mistici e diventare forti, nonostante questo power up, questo upgrade che avevano sulle armi che gli è venuto a mancare. Ovviamente nel finale i poteri mistici tornano, anche perché a livello narrativo era l'unico modo per fargli affrontare una minaccia così grande da soli, perché alla fine sono in quattro fino alla fine, e dovevano tornare i poteri anche perché è un film circolare fondamentalmente. Se non fossero tornati i poteri al principio del film, Casey Jones, che è l'altro protagonista del film, non sarebbe potuto tornare indietro. Parliamo proprio di Casey Jones che appunto è... in questa versione delle Tartarughe Ninja non esisteva, esisteva una versione femminile Cassandra Jones, che poi verrà detto è la madre di Casey Jones, che invece viene dal futuro, e vediamo che Casey Jones è fondamentalmente un discepolo del maestro Leonardo del futuro e viene spedito indietro nel tempo dai poteri mistici di Michelangelo per salvare il presente. Quindi in una storia un po' alla Dragon Ball saga di Trunks, un po' alla Avengers Endgame, perché se ci fate caso l'inizio è praticamente Avengers Endgame, e un pochino alla primo Avengers, ovvero nella battaglia finale, diciamo ricorda molto il primo Avengers con la battaglia di New York, questo film si... tra citazioni varie e si porta a casa un bel po' di intrattenimento. A livello di animazioni invece attinge totalmente alle animazioni giapponesi e devo dire è un cambiamento ed è anche bello da vedere, anche se su tutti appunto, dal punto di vista sia grafico, sia della storia, sia dell'atteggiamento delle Tartarughe Ninja verso anche la quarta parete, mi ha ricordato tantissimo Tintai Tango ed è per questo che continuo a riterare che questa serie doveva essere marketizzata, cioè il marketing doveva far capire che questa era la versione Tintai Tango delle Tartarughe Ninja e avrebbe avuto successo. Questi strani atteggiamenti verso la videocamera mi hanno fatto un po' storcere il naso all'inizio perché non ero abituato, specialmente da personaggi come Leonardo, però devo dire che alla lunga ci si abitua ed è pure divertente. Per quanto riguarda i comprimari, appunto, come ho già detto, Crazy Jones è promossissimo, mi piace un sacco questa versione discepolo di Leonardo che viene dal futuro e che ha un bellissimo momento con il Leonardo del presente che lo aiuta a crescere, diciamo, è il classico momento in cui il discepolo vede il suo maestro come un essere umano e lo redarguisce per farlo diventare la persona che lui stimava. Questa è una scena classica che mi è piaciuto vedere in questo contesto. Invece, per quanto riguarda gli altri comprimari, ovvero April O'Neil e il maestro Splinter, per me sono bocciatissimi. Soprattutto April O'Neil perché, al di là che, vabbè, esteticamente sembra Irma, ma quello lascia anche un po' il tempo che trova, la sua sicurezza in se stessa è davvero fastidiosa. Il fatto che debba dire ogni 5 secondi April O'Neil, April O'Neil, sembra quasi per ricordare ai fan delle tartarughe ninja che quella è April O'Neil. Mi raccomando, ricordatevlo che lei è April O'Neil perché se no, se non lo dicesse, nessuno capirebbe chi cacchio è questa persona. E effettivamente è un po' così perché non è molto April O'Neil, è proprio un altro personaggio, non mi riferisco ovviamente all'etnia, ma proprio al fatto che non si capisce bene, sì, sta studiando giornalismo, quindi è una citazione all'April O'Neil classica. Ha anche lei una mazza mistica, quindi probabilmente ha imparato un po' a combattere come la versione 2012 di April O'Neil, però non si sente questo carattere venire fuori. Mentre il maestro Splinter, vediamo solo la linea comica del maestro Splinter, ovvero il fatto che lui è un vecchietto che non vuole essere disturbato, che ha insegnato le arti marziali alle tartarughe ninja, lo vediamo che vuole guardare le sue soppopera, ed è divertente, comunque aiuta il gruppo, però è proprio un personaggio di contorno, non ha mai una scena in cui fa il maestro, non ha mai una scena in cui dà un insegnamento. Cerca di dare un insegnamento a Leonardo, ma Leonardo non lo ascolta, quindi fondamentalmente questo suo ruolo viene anche meno il ruolo del maestro, perché un maestro che non si sa far ascoltare non appare bene, diciamo, e quindi non so, Splinter un pochino bocciato, April totalmente bocciata, mentre le tartarughe ninja mi sono davvero piaciute. Anche in questa incarnazione hanno fatto in modo che Donatello è il classico nerd, quindi con tutti gli stilemi dei nerd, il fatto che sia anche germofobico, eccetera, eccetera. Va bene, ormai si va sempre su questa direzione, in una direzione dove la cultura pop e nerd è stata sdoganata, Donatello invece era meno lo stereotipo del nerd nella serie anni 90 che non adesso, però nella serie, scusate, nei film anni 90 che non adesso, però va bene, va bene così, chi se ne frega, tanto ci saranno presto altre due incarnazioni. Una, sicuramente dovrebbe uscire l'anno prossimo, l'hanno annunciato, è un film sempre in live action, un film indipendente che si chiamerà Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, quindi Chaos Mutante, e sarà scritto da Seth Roggen, che è anche uno degli autori di The Boys e uno degli autori di Sausage Party, quindi ho grosse speranze, anche se spero non ci metta qualche sua metafora su come lui vede la vita, perché non condivido molto il suo punto di vista su alcune cose, però è un bravissimo scrittore, un bravissimo sceneggiatore, quindi sono molto molto curioso. L'animazione che hanno mostrato in Mutant Mayhem a me non piace molto, però il fatto che ricordi un pochino Mitchell contro le macchine e di conseguenza Into the Spider-Verse mi fa sperare bene, quindi mi fa sperare che anche se l'animazione non è nel mio gusto possa andare oltre dalla tecnica che utilizzeranno, ecco, quindi speriamo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film, se vi è piaciuto, se vi è rimasto indifferente, se vi è fatto schifo, se vi ha fatto venire voglia di recuperare Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, scrivetemelo qua sotto. Io dal canto mio sono un pochino indignato che ho visto prima questo film e che non la quinta stagione delle Tartaruga Ninja del 2012, purtroppo su Netflix c'è solo, se non sbaglio, la terza e la quarta stagione, camma fa, aspetterò. Il DVD non si trova da nessuna parte, quindi mi dispiace, peccato, perché era una serie davvero davvero fatta bene. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.